Siamo in diretta, sono le 7 del mattino e pronti, più pronti che mai, per affrontare un nuovo giorno insieme, lo affrontiamo ovviamente con l'informazione, uscire di casa informati è sempre una buona cosa. E allora partiamo dal santo di oggi, così magari possiamo fare anche gli auguri per esempio a chi si chiama Damiano, San Damiano, ore all'alba alle 6.26, il tramonto alle 19.55, adesso il tempo. Anche l'informazione meteo è importante, chiaramente perché è importante sapere che cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico, se dobbiamo usare l'ombrello oggi, se dobbiamo coprirci un po' di più, sicuramente dobbiamo coprirci un po' di più, perché fa freddissimo, ancora sono temperature rigide e tipicamente invernali. Intanto Trebi Meteo pubblica la prima pagina con il titolo Giovedì vortice freddo, neve a quote basse, poi depressione mediterranea. Andiamo a vedere la nostra regione, velocemente, ancora qualche piovasco in mattinata sull'Anconetano, poi sul Fermano e sulla costa a sud della nostra regione. Questo è il pomeriggio, vedete, la pioggia interesserà soprattutto l'entroterra, quindi la catena penninica e fascia collinare, poi il miglioramento invece sulla fascia costiera. Andiamo a vedere anche la giornata di venerdì, ecco venerdì mattina, poi pomeriggio e sera con schiarite, sempre più importanti. Va ripeto, è il freddo questa mattina, se state per uscire di casa organizzatevi, perché anche i vetri della macchina sono completamente ghiacciati, perlomeno nella zona a nord della nostra regione, poi non so se è dappertutto, ma comunque nel pesarese più o meno è così. Allora abbiamo una notizia buona e una notizia cattiva. Qual è la notizia? Da dove cominciamo? Quella buona è che di quattro reparti di terapia intensiva al San Salvatore di Pesaro, uno è stato chiuso, quindi già è un segno, un segno che qualcosa sta cambiando in termini buoni, perché quando si chiude un reparto di terapia intensiva vuol dire che i malati sono diminuiti, stanno diminuendo, quindi che c'è meno bisogno di intubare la gente. Un reparto è stato chiuso. Quella cattiva in realtà è un po' più di una, che ieri abbiamo ancora avuto registrato 19 morti per Covid, e poi che ci sono degli operatori sanitari, che nonostante il doppio vaccino, quindi richiamo con Pfizer, si sono di nuovo infettati, anche se senza sintomi, quindi ci sono persone positive nonostante il vaccino, ma questo non è una novità, è solo una cattiva notizia, ma non è una novità. Andiamo a vedere i titoli dei giornali comunque. Cominciamo dal Corriere Adriatico di Pesaro. Ecco qua, infermieri vaccinati e positivi, contagiati dalla variante brasiliana, sono le varianti che purtroppo complicano la vita ai vaccini, a chi si vaccina. Almeno 5 gli operatori sanitari nella stessa condizione, effetto Covid a scuola, invece in 7 giorni di lezioni 22 classi sono finite in quarantena. Ora non significa che tutte le classi hanno gli studenti positivi, basta uno studente che sia positivo, chiaramente tutta la classe va lasciata a casa. Le scuole medie sono le scuole più colpite, anche perché le superiori hanno la didattica a distanza al 50% e la presenza, dunque è più difficile il contagio in questo momento. Intanto le terme di Carignano di Fano occupano la fotonotizia di oggi del Corriere di Pesaro, c'è il progetto della nuova proprietà che verrà tra l'altro reso noto nei prossimi giorni, sviluppo sostenibile per le terme, questo è il titolo ed è anche una buona notizia. Largo tre martiri, il rondò definitivo con luci e asfalto, largo tre martiri è a Pesaro, sempre a Pesaro lungomare levante, pedonalizzazione e rotatoria rimossa, e poi botte e vessazioni, lei lo denuncia, condanna a due anni. Poi un disabile falciato sulle strisce, ricoverato a torrette grave, è successo a Pesaro, travolto da un SUV all'incidente in Viale Fiume per effettuare i soccorsi, attivato il senso unico. Lo sport, un richiamo in prima, la VL cede nettamente, per Brindisi è facile, il punteggio finale 86 a 62. Il carlino invece di Pesaro apre la fotonotizia proprio per la VL, lo sport, VL così proprio non va, bianco-rossi staccati di 24 punti da Brindisi e la fortitudo non molla. Vaccini tocca alla fascia 65-69 anni, entro pochi giorni i sessantenni partiranno con le prenotazioni, e da lunedì sarà il turno di Badanti e Caregiveri. I Caregiveri, sapete, sono quei familiari che a titolo gratuito, insomma, assistono un disabile in famiglia. 17enne invece, qui siamo ad un processo che si sta tenendo a Pesaro, una ragazza, 17enne di Fano, che ha venduto le sue foto sexy per 10 euro di ricarica, le compra un uomo poi accusato di violenza, vedremo tra poco un po' questa storia. Addio invece a Pesaro ad Angeli. Angeli era il custode storico dello stadio Benelli di Pesaro. Mentre l'ospedale ora respira, chiusa una sala di rianimazione a Marche Nord, farmacisti per iniettare il siero, dobbiamo tornare sui libri, si parla ovviamente di formazione, farmacisti che sono chiamati a, giustamente, un corso di aggiornamento, chiamiamolo così, per poi fare i vaccini. Con la riviera del San Bartolo il turismo mette il turbo e poi sotto è la bacchetta di Rossini, del maestro Rossini all'asta, si parte da 1.500 euro, è in ebano e in argento. Le altre notizie, sempre dalla prima del Carlino, pensionati 2 su 3 con l'incubo povertà, sono le stime della CGL, e per le donne va anche peggio. E poi affano una lite tra la società e la capitaneria di Porto per la banchina che deve essere solo per di Porto e dove viene proibito praticamente ogni lavoro agli yacht. Il Carlino di Ancona, invece, questa è la fotografia, la fotonotizia, perdonateci. Il perdonateci arriva dall'azienda, dal Torrette, dall'ospedale di Torrette, perché l'ospedale di Torrette si è dimenticato di avvisare i familiari di questo signore che è morto a 65 anni, Roberto Monti, morto per Covid a Torrette, morto da due giorni, nessuno aveva avvisato la famiglia, qui dietro vedete le figlie di questo signore che è morto, è stato, tra virgolette, dimenticato, Torrette si scusa, dice perdonateci, il periodo è quello che è, siamo sotto stress, però non doveva succedere. Allora, ripartiamo dall'effetto Covid a scuola. Una settimana di scuola, dunque, dicevamo, 22 classi in quarantena, è questo il dato evidente del report dell'Ufficio Regionale Scolastico che analizza periodicamente la situazione del Covid nelle oltre 10.000 aule marchigiane. Niente a che vedere, ovviamente, con le 367 classi chiuse il 24 febbraio scorso, né tantomeno con le 492 segnalate il 3 marzo. Quindi anche questo è un indice, è un dato che ci fa ben sperare. Insomma, 22 classi in quarantena su quasi 10.500, è ovvio che è un dato più che positivo. Per lo meno il trend è quello che va verso la normalizzazione. Va evidenziato, però, spiegano in una nota i referenti dell'Ufficio Scolastico, che una sezione o classe può essere messa in quarantena anche per la presenza di un solo alunno positivo, come vi dicevo all'inizio, il che non implica che lo siano anche tutti gli altri. Intanto il Governo sta riflettendo sul rientro in classe al 100% delle scuole superiori in vista della riapertura del Paese, del Paese Italia, dopo il 20 di aprile. Adesso bisognerà vedere e attendere che cosa decide Draghi, il Comitato Tecnico Scientifico, anche alla luce di quelle che sono le manifestazioni, i disordini, a volte un po' in giro in tutta Italia, ma anche a Roma, dove il chiasso che hanno fatto i manifestanti è stato recepito all'interno delle stanze del Governo. E quindi Draghi adesso è più convinto che mai di allentare un po', magari anche andando contro al parere del Comitato Tecnico Scientifico. L'altra notizia invece che abbiamo detto all'inizio della nostra rassegna è che due infermieri vaccinati sono stati trovati positivi. Sono marito e moglie e lavorano, è una coppia di operatori sanitari, che lavora all'ospedale San Salvatore di Pesero. Lui ha 42 anni, sua moglie 35 e purtroppo sono risultati positivi alla variante brasiliana del Covid, pur avendo ricevuto la seconda da Ose di vaccino Pfizer nel corso, nel mese di gennaio scorso. Scrive Letizia Francesconi sul Corriere Adriatico di questa mattina ci sarebbero anche cinque operatori sanitari dell'ospedale nelle stesse condizioni, lavorano tutti in sezioni Covid. Ora, questa coppia, come abbiamo detto, colpita dalla variante brasiliana, probabilmente è stata colpita, gliel'ha trasmessa il figlio di sei anni, almeno dai primi accertamenti, quindi questo contatto stretto. Anche perché lui, questo bambino di sei anni, è risultato positivo a questa variante brasiliana. Ora sono in isolamento domiciliare, non hanno sintomi, questa coppia non ha sintomi, quindi voglio dire, alla fine il vaccino funziona in questo senso, anche se, diciamo, la variante, come si dice in gergo, ha bucato il vaccino, però, insomma, alla fine i due operatori sono comunque protetti. Il bambino invece ha qualche sintomo, ha qualche sintomo dell'infezione, però, essendo un bambino, insomma, a tempo, abbiamo visto il vaccino, il Covid, i bambini, insomma, li lascia, anche se li colpisce, ma non succede niente. Intanto, area di normalità, si respira sempre a Pesaro, nei reparti di rianimazione, sono quattro, Benedetta Iacomucci, questa mattina sulle pagine del Colone del Carlino, dice, scrive, è stata chiusa ieri una delle quattro terapie intensive di Marche Norte, la decisione è stata presa nel corso dell'unità, di un'unità di crisi dell'azienda ospedaliera, che ha preso atto, da un lato, dell'allentamento della pressione sui reparti ad alta intensità, e dall'altro, della necessità anche di trovare spazi per i pazienti affetti da altre patologie, non dimentichiamocelo mai, che invece in questi giorni affollano il pronto soccorso. Poi c'è anche un altro dato positivo, che è il ritorno a Muraglia del reparto di malattie infettive, che invece era stato trasformato in medicina subintensiva il 23 marzo scorso. E quindi anche questi sono segnali di un lento ritorno alla normalità. Lo abbiamo già vissuto, rispetto all'anno scorso, però con le varianti in azione, questo ritorno è un po' più lento, a mio avviso, ma comunque l'importante è che si vada verso quella direzione. Poi, io non ve l'ho mai detto in questi giorni, durante il commento alla stampa, ma è chiaro che quando si parlava, qualcuno, anche noi l'abbiamo detto, anch'io l'ho detto, se questo vaccino fosse nato o meno in laboratorio o fosse di origine naturale, come la Cina sostiene battendo i pugni, io leggendo in giro anche documenti spacciati per riservati, insomma, qualcuno sosteneva, io lo sostengo allo stesso modo, che questo virus arriva da un laboratorio. Ora, se questo virus è un virus da laboratorio, come sostiene anche l'area capua, l'ho sostenuto sulle colonne del Corriere della Sera qualche giorno fa, il problema è serio, perché è un virus potenziato in laboratorio e non è un virus naturale. Se è così, ovvero potenziato, sono problemi seri, perché vuol dire che questo virus ce lo otterremo ancora per tanto, tanto tempo ancora. Se invece è naturale, allora, come tutti i virus naturali, probabilmente il nostro corpo si adatterà e di conseguenza dovrebbe scomparire nel prossimo, o perlomeno dovrebbe convivere con noi, ma senza fare tutto questo macello. Ecco, questa è un po' la strada. Non l'abbiamo mai affrontato, lo lasciamo qui, lasciamo stare il discorso del virus potenziato, cerchiamo di essere in qualche modo ottimisti e sperare che a settembre le cose siano migliori. Dubito, ma comunque vediamo, andiamo avanti. Covid in classe, avvisati avvisati una settimana dopo. Qui è, ecco, Tiziana Petrelli, invece, sul resto del Carlino, racconta di una nonna che giustamente è preoccupata perché è una nonna di 73 anni, di Saltara, che dice, che dice così, mi hanno avvisato, ci hanno avvisato che la classe era in in quarantena una settimana dopo che c'è stato questo contagio. Ora, da ieri una classe seconda delle seconda media di Saltara, leopare di Saltara, è in quarantena. A fare scattare i domiciliari e la DAD per tutti questi ragazzi di Colli al Metauro è stata la positività di ben due compagne di classe. Hanno il Covid dal 7 di aprile, ovvero dal primo giorno del rientro a scuola in presenza dopo il periodo di DAD in zona rossa. Non hanno fatto in tempo a rimettere i piedi a scuola, il piede a scuola che dal giorno dopo erano isolati di nuovo in casa. Ma a noi la comunicazione è arrivata solo questa mattina, cioè ieri, racconta preoccupata una nonna di 73 anni. Il mio nipotino che abita con me, ecco qui il problema, il mio nipotino che abita con me frequenta la seconda media alla Leopardi. Questa mattina ci ha chiamato l'Asur per dirci che questi bambini sono tutti in quarantena. Ora, che la comunicazione ci arrivi dopo una settimana, ok, mi pare assurdo, soprattutto per il periodo nero che corriamo. È una trascuratezza che può essere rischiosa. Di fatto, la preoccupazione di questa nonnina di 73 anni è più che legittima perché la nonnina manda il nipotino sono a scuola tranquillo. In realtà poi viene a scoprire che questo nipotino è stato a scuola con dei bambini positivi. Quindi, insomma, è qui la preoccupazione chiaramente sale perché a quel punto adesso bisogna aspettare sperando che insomma non ci sia stato nessun tipo di contagio ma ecco, questo per dirvi che anche in casa lo abbiamo detto più volte a costo di essere antipatico ma anche in casa bisogna mantenere le distanze e se possibile anche le mascherine. Non se possibile basta volerlo. Io tengo la mascherina per esempio anche quando sono dentro casa sono un marziano però è così non c'è niente da fare. Screening a scuola altri 910 test il Comune ora tacce sui positivi dopo le incertezze degli ultimi giorni qui siamo sulla vicenda di Pesaro Pesaro sta facendo quest'operazione contro tutto o meglio contro il parere della Regione che si è sempre detta invece contrario a fare questi test agli studenti. Pesaro ha voluto andare avanti caparbiamente con il Sindaco Ricci in testa ha fatto tutti i test rapidi agli studenti altri 910 test li ha fatti nella giornata di ieri però a differenza delle altre volte questa volta il Comune di Pesaro ha deciso di non dichiarare quanti positivi tra questi 910 test veloci ci sono tra gli studenti che si sono sottoposti al test perché? Perché purtroppo ci sono molti falsi positivi tanti anche l'altro giorno mi pare che su tre uno solo era positivo gli altri due invece erano falsi positivi i numeri ecco quando si tratta di questi test test veloci rapidi insomma molte volte sbagliano però anche qui voglio dire può essere utile magari su 10 falsi positivi uno uno vero lo trovi quell'uno insomma è sempre qualcuno che può essere messo a casa in quarantena e quindi evita di fare danni in giro però ecco ecco perché la regione probabilmente ha preferito non spendere troppe energie troppi soldi per fare test rapidi che poi alla fine non danno risultati certi voi immaginate se al posto di fare i test rapidi nelle scuole di Pesaro lo avessero fatto in tutta la regione Marche avremmo avuto non 20 come l'altro giorno falsi positivi ma 200 2000 e sarebbe stata una barzelletta quindi giustamente meglio così li ha fatti Pesaro e va bene allora adesso invece dalla cronaca dell'Emilia Romagna Marche vaccinati i nonni ora si parte con i sessantenni immunizzati quasi 100% degli over 80 dai prossimi giorni si comincia anche con i più giovani ecco una guida utile da lunedì possono prenotare sul portale delle poste anche quei familiari che assistono persone con handicap a casa poi i medici di famiglia sono pronti questa volta davvero ad entrare in campo i disabili ci sarà un tour de force per chi è in difficoltà e insomma si parte con i sessantenni ora la domanda è perché è chiaro ma con quale vaccino perché perché a pagina 3 del carlinio di oggi leggiamo basta con AstraZeneca e Johnson & Johnson quindi di 4 vaccini su cui potevamo dovevamo puntare per vaccinare il mondo intero adesso ne abbiamo due vabbè poi c'è il vaccino cinese non lo contiamo il vaccino russo per ora lasciamolo in panchina ma comunque AstraZeneca e Johnson & Johnson in questo momento hanno vita dura speravamo su Johnson & Johnson in realtà gli Stati Uniti hanno bloccato questo siero l'hanno bloccato anche in Europa pratica di mare ne è arrivata una scorta ma è già lì ferma e non so a che punto fino a che punto potranno essere utilizzati comunque la notizia di oggi è che l'Europa punta sui vaccini più innovativi quindi che significa che anche quello italiano che si sta sperimentando tentando di sperimentare insomma lo spallanzai di Roma anche quello già nasce vecchio di fatto perché vecchio stile è una cosa che probabilmente sulla quale l'Europa non punterà allora dal 2022 infatti solo farmaci con RNA messaggero la Wonderlier dice sono più efficaci contro le varianti e ordina subito 50 milioni di dosi Pfizer anticipa le consegne all'Italia 7 milioni di fiale aggiuntive nel trimestre il siero Oxford sarà limitato agli over 60 cioè AstraZeneca sarà limitato agli over 60 e dunque questa è diciamo la notizia più importante nel 2022 insomma quindi parliamo del prossimo anno non domani mattina nel prossimo anno la Commissione Europea punterà sui vaccini RNA messaggero e quindi su Pfizer BioNTech Moderna e sul futuribile Curvac ancora non approvato dall'EMA a spingere in questa direzione in particolare la Germania che ha ben due BioNTech e Curvac delle aziende produttrici nel frattempo in attesa di capire come utilizzare Johnson & Johnson si andrà avanti in primis con Pfizer poi con Moderna e con AstraZeneca a scartamento ridotto sostanzialmente solo quindi per gli over 60 e come seconda dose per chi ha avuto la prima quindi AstraZeneca solo per chi ha più di 60 anni e per chi ha già fatto AstraZeneca con la prima dose ok solo per questi gli altri faranno tutti evidentemente Moderna e Pfizer poi bisogna andare a vedere Johnson & Johnson e tutti gli altri ma insomma Lunano invece Lunano piange l'ex sindaco Salvatori fascia tricolore per 14 anni di fila era ricoverato per Covid a Pesero il commosso omaggio di cittadini e istituzione Sandrone lottato per il territorio niente riservisti a Senigallia invece si scorre la lista per le dosi in più non ci sono code per i vaccini avanzati a fine giornata vengono anticipate le prenotazioni quindi se qualcuno ha intenzione di fare come quella donna di 53 anni di Porto dei Canati di andare in fila e di sperare in Dio ecco non si spera in Dio non si spera neanche nel fatto di essere lì magari da un'ora ad attendere qualche buon sanitario che faccia l'insiero per non sprecarlo non funziona così quindi i riservisti in questo momento non esistono non ci saranno il saluto del procuratore generale Sottani va via Sergio Sottani lascia le marche dopo 4 anni passate al vertice della procura generale il magistrato è stato nominato ieri dal plenum del CSM nuovo procuratore generale di Perugia mentre un disabile falciato sulle strisce da un SUV a Pesaro vole piomba sull'asfalto è gravissimo l'incidente in Viale Fiume per effettuare i soccorsi è stato attivato anche il senso unico adesso quest'uomo è ricoverato al torrette di Ancona invece da Fano una ragazzina di 17 anni che ha venduto le sue fotografie Osè per 10 euro di ricarica ieri in aula la testimonianza di una ragazza fanese presunta vittima di una violenza sessuale stolche e minacce da parte di un 48enne pugliese si erano conosciuti su Instagram lei aveva pubblicato delle foto quest'uomo le ha viste hanno cominciato a chattare a scriversi hanno deciso un po' di incontrarsi si sono incontrati prima in un albergo di Pesaro dove hanno fatto quello che dovevano fare e poi in un albergo di Riccione fin qui tutto bene lei si faceva ricaricare si faceva pagare i vestiti eccetera eccetera poi a un certo punto lui è diventato geloso la storia è andata a finire male e quindi lei ha deciso di denunciarlo e adesso tutto prosegue in tribunale anni da incubo ancora violenza sulle donne tra botte e vessazioni la donna racconta tutto e lo denuncia lui 54 anni ieri è stato condannato a oltre due anni dovrà curare il suo alcolismo centinaia in coda invece per un pacco di cibo qui siamo a Fano prima della pandemia erano meno della metà ora a Rosciano sono quasi mille le persone assistite dai volontari di Domomia spero si legga così e che si dica così è l'articolo di Marco Del Rico questa mattina sul resto del Carlino con le fotografie che indicano fuò uno spaccato della vita di tutti i giorni magari una vita non alla luce del sole sembra quasi se pensiamo che al colma qui dove c'è la fila per prendere appunto questo cibo questa frutta eccetera poco più in là c'è un'altra coda che è quella della gente che si va a farsi vaccinare oppure quella che si va a farsi tamponare per vedere se è positivo o meno ecco il colma è diventato un po' il centro della speranza un po' un centro dove un tempo si facevano solo le feste si ballava in modo spensierato adesso invece è diventato un centro chissà come diventerà tra qualche mese tra qualche anno quando sarà tutto finito quel centro che è molto bello dalle terme sviluppo sostenibile per il settore turismo e wellness la nuova proprietà annuncia con il rilancio la crescita di occupazione ed economia la presentazione di questo nuovo progetto per le terme di Carignano sarà fatta praticamente a giugno è morto invece Giovanni Angeli il custode dello stadio Benelli a Pesero deceduto per Covid a 82 anni aveva curato anche i campi da tennis del Curvone sabato alle ore 10 il funerale intanto il rosario è domani alle 18 a Villa San Martino dove il funerale è previsto per sabato alle ore 10 e invece sulla profilgrasse l'incendio che c'è stato l'altro giorno è stato eseguito il campionamento dell'aria alta vigilanza tutela dei residenti l'assessore Brunori illustra i rilievi con il carbonio attivo alla profilgrasse conclusisi ieri poi non faremo passare la fusione invece le minoranze ora avvisano seri la politica Lega Movimento 5 Stelle fanno cittadeale e si arroccano sulla difesa di Aset il PD è nell'impasse siamo in chiusura largo tre martiri a Pesero il rondò dunque diventa definitivo cambiano anche le luci l'asfalto e le aiuole Belloni dice l'area sarà predisposta per l'eventuale prolungamento della ciclabile e poi a Calcinelli guardate questa fotografia è la ripresa video che ha incastrato il teppista di Calcinelli il teppista che è entrato in azione alla scuola primaria un ventenne ha tagliato il gazebo all'ingresso è stato individuato e adesso nei guai ha anche un writer minorenne il lungomare Amarotta più accogliente e vivibile primo step per il nuovo piano della spiaggia e poi da Pian di Meleto il racconto di quest'uomo che ha 104 anni e che cosa fa? Intreccia i canestri l'incredibile vitalità di Ermene Gildo Costantini di Pian di Meleto quando finì il militare fu chiamato e spedito a fiume per 5 anni e adesso lavora a casa un cesto di vimini e ha festeggiato insomma i suoi oltre 100 anni bene c'è anche lo sport ma non abbiamo tempo io vi saluto vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo che questa sera dopo il telegiornale delle 20 e 30 avremo un approfondimento in studio in pronte femminile con l'assessore alle pari opportunità del Comune di Fano Sara Cucchiarini grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie 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 a tutti